La terza pulce è Beatrice, l'infermiera, un po' scansafatiche e un po' paurosa. Lavora al pronto soccorso ma quando vede arrivare tutti questi vecchi con la tosse si spaventa e decide che deve assolutamente mettersi in malattia. Non sa come fare e allora si consulta col suo amante, il famoso Sasa. E il suo amante suggerisce un falso incidente automobilistico. E dopodiché Bea se ne sarà a casa per due settimane mentre al pronto soccorso succede di tutto. Il coronavirus è arrivato in Italia, è arrivato soprattutto in Lombardia. Lavora al pronto soccorso Verranno adottate tutte le misure necessarie. Chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali. Un virus o stare ovunque. Dobbiamo evitare il più possibile contatti non strettamente necessari. Siamo alla ricerca delle mascherine però purtroppo sono esaurite. Grazie. 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 Grazie.